La pie. La pie diventa un simbolo perché, come dice una canta di spallicci, quando i soldati ricevevano l'involucro da casa con la piadina dentro, aprendo quell'involucro il profumo li portava a casa. In questi romagnoli, forlivesi, ciavesenati, ravennati, che si trovavano soprattutto nelle zone del calcio, lungo le battaglie dell'Izzonzo, questo sentimento comune diventò rappresentativo.